Voglio salire la classifica perché così non si può stare, nel senso zero punti non mi è mai successo, quindi è un po' pesante questa situazione. A livello personale vorrei crescere ancora di più perché mi sento di poter fare ancora qualcosa per la palla a volo, nonostante la mia età. Non sono ventissima, c'è una ragazzina, c'è una ragazzina. E quindi colpesto.